Ok, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare, è un guardone giocarellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, no mai! Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così? Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non l'ho mai rifiutato, nonostante le sue meredette imperfezioni. Io sono un falatico dell'uomo! Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare che il ventesimo secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, Kevin! Ogni cosa! Tutto mio! Sono all'apice, Kevin! Trattende Scriviti Grazie a tutti.